Trufavano lo Stato promettendo ai clienti che non avrebbero pagato le bollette di energia e gas attraverso un meccanismo che sostanzialmente faceva passare tutta l'energia consumata come preveniente da fonti rinnovabili e quindi detraibile in dichiarazione dei redditi in forza delle agevolazioni per l'efficientamento energetico. In questo modo due società hanno offerto a oltre 750 clienti un pacchetto di investimenti comprensivo della vendita di apparecchi per l'efficientamento energetico, caldaie, condizionatori e inverter assieme a pacchetti pluriennali di vendita di energia elettrica e gas. La Guardia di Finanza di Treviso attraverso la compagnia di Conegliano ha però scoperto il meccanismo e ne è nata l'operazione Bolletta Zero che contesta ai responsabili delle due società in questione i reati di truffa, peculato e reati fiscali nel settore energetico su un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro detratti indebitamente dalle tasse. I clienti venivano intercettati con pubblicità civetta, soprattutto online. Le aziende venivano presentate come solide, con un capitale sociale consistente ma in realtà fittizio. A fronte di investimenti in impianti di produzione si prospettava la ricezione di bollette a 0 euro per 10 anni e la totale detraibilità dell'investimento, compresa la quota di fornitura di energia, che in realtà non era detraibile. Infatti, in fase di fatturazione, le società indicavano l'intero importo degli investimenti sotto la voce vendita di apparecchi di efficientamento e dissimulavano così il valore preponderante delle forniture pluriennali di energia elettrica. In molti casi i clienti hanno anche sostenuto investimenti ricorrendo a finanziamenti concessi da due intermediari finanziari che finanziavano tutto il pacchetto, comprese le forniture di energia. Le due società, inoltre, hanno impiegato in maniera irregolare oltre 100 lavoratori, occultato al fisco una base imponibile di 13 milioni di euro, omesso di dichiarare e versare IVA ritenute per oltre 5 milioni di euro e di versare all'erario il canone Rai per 103 mila euro. Infine, hanno distratto gran parte del denaro incassato in anticipo dai clienti e dalle finanziarie e sono andate in baccarotta senza più erogare nemmeno le forniture di energia. 32 persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Treviso a vario titolo. I clienti delle sue società che hanno fritto del pacchetto sono stati segnalati a 116 reparti della Guardia di Finanza in tutta Italia per i riscontri sulle detrazioni operate. Una delle due società, tra l'altro, aveva anche tentato di accedere senza successo a finanziamenti con garanzia pubblica per 4 milioni di euro, indicando nella richiesta dati che non erano veri. Grazie. Grazie.